Siamo in live, eh, fai lo stesso Marco Eh, yes, Prince, non ho il pene di fuoco Eh, coprite, coprite Dai, guarda come mi penzola tutto che sbattuto Eh, schifo Scusa Potevi avvisare di vedere una copertina di pile Giorgio Caffè Una copertina di paglia, dai Grazie al gatto del ride e non so Non lo so Non lo sai? Ormai non lo sai, scusate Perché non lo sa? In che modo in Bosix? Invitatemi, dai Allora Eh, no Ah Facciamo che Imbarazzo Laddove ci fu... Eh? Laddove? Marco! E' Marco! Dimmi, dimmi, dimmi Come? Vabbè, nessuno invita, invito io, allora Grazie Invita amico in un gioco Invita amico in un gioco No, io stavo leggendo le missioni di oggi Eh, blocca amico Buona mattina a tutti quanti Io ho dormito tre ore, quindi non mi rompete le balle Perché sei un coglione, eh Perché sei un coglione, Marco No, sono andato a letto a mezzanotte Eh Mi sono svegliato dieci volte però durante l'anno Ah, è vero Aspetta No Sono andato a letto presto Non riuscivo però a... Mi continuavo a svegliare Molto prima di mezzanotte Si è avuto a letto alle dieci Ecco perché hai sparito, tutto di cacchio Però... A parte che si, però comunque non riuscivo a dormire Eh... E allora sei uno stronzo, scusa Perché devi guardarsi in Fuga da Los Angeles? No, ho iniziato a guardarmi Avenger ma... Ma vaffanculo, imbecille Ho visto Sono andato a dormire tanto Morelli stai entrando su Rainbow Six? Sono dentro Ma ti ho pure invitato venti volte Ma sono dentro E' vero Ma quanta gente Ma l'hanno scritto in 18 Che anche loro in questo periodo E' il periodo? Ma sia il periodo E' il periodo di merda Ma che ci vuoi fare? Come si gioca qua? Multigiocatore? Ranked? Eh? Non è vero È libera Ahhhh Ti ho fatto uno scherzo Ti ho fatto uno scherzo Posso andare a salvare le donzelle per strada Ma fuga da Los Angeles Dieci volte meglio di Avengers Don't eat the dry card 5 metri Io Niente è meglio di Avengers Ragazzi, ragazzi Non ho capito che hai detto E non più vedo perchè Aspetta, sbattolo Il modo da streaming manca E' la situazione Cazzi Allora, io Chi prendiamo oggi? Mi prendo dei Lion Secondo me, guarda Dai, io vado con Gino Io provo IQ Perchè dite sempre che non la prendiamo mai E avete ragione Grazie mille e petiti Ma anche tu mi hai raggiato E petiti Fa schifo Ti e petiti giusto Bravo Che sarà mai Andiamo a vedere Un giorno mi è assolutamente esagerato di Amazon Mi ha già parlato e non è assolutamente esagerato No, poi ognuno faccia quello che vuole Come è assolutamente esagerato? Ma sei povero come la merda? Non è esagerato ma mai... Mai nel... Fate conto che anche... Era bassissimo prima Anche fosse costato 50 euro era comunque... No, allora, aspetta Quindi... Se tu usi Amazon Una volta all'anno per un prodotto da 5 euro è zerato Perché fai il cazzo del Prime Chiaro Però se tu usi spesso Amazon Il prezzo Vieti che è ottimo Ma anche solo... Ma anche solo che non ti fa vedere la pubblicità su Twitch non è esagerato Ma c'è... C'è comunque anche... C'è anche Prime Video eh Ma comunque esagerato vuol dire che... Molto al di sopra delle... Infatti non è esagerato Anzi... E' ancora basso per la realtà Ma c'è semplicemente... C'è semplicemente... C'è semplicemente Prime Video Anche solo Prime Video Ti viene a costare 36 Ma vabbè magari non lo uso Un servizio di streaming costa 10 euro di base Se non hai 3 euro al mese vuol dire che... Stai già vivendo sotto un ponte Ma con un piccolo La condizione è per guardarci E quindi... Non capisco E' di sopra eh Penso che anche un universitario abbia... Quei soldi Oddio... Mmm... Si Sono sopra lì Beh guarda che Amazon questa 10... C'è... Netflix questa 10 euro... E niente... Non lo posso prendere io Beh ovviamente se non puoi... Permettercelo un altro ponte Ho capito però... Non potevi neanche... Non potevi neanche permetterlo prima Ma questo punto No... Non potevi neanche permetterlo prima Magari... Vuoi comunque risparmiare tutto Però è sanzitata Mamma mia No... Che cazzata... Parca miseria Che botta E perchè... No perchè... Spaventa perchè hanno dato il doppio all'improvviso Ma in caso se proprio proprio Se non ce l'hai lo puoi fare adesso Costa ancora 20 euro fino al... Inizio a fuorire Se tu lo fai... Se tu lo fai inizio Puoi fare anche il mese gratuito E poi comunque rinnovarlo costa ancora 20 euro Se lo fai adesso Per te... Cerco... Ma... Ma comunque l'obiettivo... Ah... Ottimo Si... Inizia a diventare esagerato O comunque sopra la media Se devi iniziare a costare 70 80 E' 50 50 Ancora ancora va bene Da... Non fiorare mai Si... Dov'è? A me mi ha colpito... Dai... Ma non sii... E' una pompa... Non ha vita E' come... C'è nel senso... E' un po' come il discorso... Una macchina costa troppo E no... Sono io che non la uso La macchina costa giusta Io non uso la macchina 20.000 euro 15.000 euro Sono tanti Merda E' lì nella stanza Adesso Buona Ok Quasi è Allora... Si così... Hai fatto 21 punti con IQ Comunque Non l'ha preso mai più Hai esagerato di un colpo Perchè non lo aspetti Si Sembra Perchè effettivamente Però... Se tu pensi che stai pagando... Fate conto una cosa Netflix Quanto vi costa al mese ad esempio? Se siete a solo Ti costa di 10 euro 7 euro Quanto costa più o meno Ma non è... Non è... Come fai se... Questo... Non è 36 euro al mese È 36 euro all'anno Siamo la seconda nazione nel mondo Che paga meno Cioè Che ha il prezzo più basso Sì Però anche... Il servizio è anche un po' minore Secondo me Al resto del mondo Però comunque è buono Più o meno È un servizio di merda In Germania ha più o meno le stesse cose E... Si quello è vero Ho preso la recluta Ma ripeto Anche se fossero stati 50 euro al mese Da veramente tante cose In realtà comunque... No al mese no Mark Oddio Ma scusami all'anno 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 Devi comunque considerare che... 50 euro all'anno Per tutto quello che dà O senza Prime O senza Prime O oggetti che dicono Prime Arriva in quanto? Una settimana E no E Prime è un giorno Quello è sbagliato Qual... Quella è l'unica cosa Di Amazon Cos'è quella Sistemare quelle robe da Quella è l'unica cosa cosa di Amazon Ma se la roba viene dalla Cina Non posso No non dalla Cina Ma c'è roba europea Roba europea DG 1,2,2,3 Ma non è mai successo Ma roba europea Comunque è normale Che non ti arriva In un giorno È sbagliato quella In un servizio di Amazon Si 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 Il Prime non ti assicura Un giorno Ci sono anche tempistiche Che non dipendono da Amazon Ecco Stanno sfondando qua Dovrebbe 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 Fermi Poi che di noi Non faccia un giorno È un altro conto Però dovrebbe essere un giorno Comunque Morelli Non sempre No vabbè I colpi non entrano E niente Ma ha ucciso BOT THE DICK C'era Che cacchio Era quella Non mi ricordo Dunque ovviamente Poi se uno non può permetterselo Ok L'ho fatto Però Va bene Io ho preso Ho preso il coso della sedia io Vaffanculo ste sedie Perché L'hai guardata proprio E infatti è comunque poco E Ok C'è che infatti è quello che Perché attualmente non c'è una basata Infatti è che si basa un po' su Sì esatto Considerato comunque è 3 euro al mese L'unica cosa Unica cosa Il prezzo di Needle Prime Unica cosa che posso dire Needle Prime è che potrebbero E Fare i pacchetti Sì Ai prezzi è comunque poco Eh quello è un altro problema Quello è un altro problema Ti vedono Marco Marco ti vedono Sì è comunque poco 3 euro al mese Quello non lo dice niente No quello che ha ragione è Potrebbero fare i pacchetti per Io voglio solo Prime Video Voglio solo nessuno Perché a maggior parte della gente Twitch E noi ne fanno un cacchio Twitch Prime è una cosa in più Anche Prime Video è una cosa in più Sì Quella è una cosa di Amazon Twitch Prime lo hai con Amazon Prime Di conseguenza Prime Video è una cosa in più dentro il pacchetto Quindi potresti dire io non voglio Prime Video Voglio solo Amazon Prime e pago Tutto è in più Però comunque è poco 3 euro al mese è comunque poco Se metti Twitch Prime all'infuori di Amazon Prime Non avrebbe senso perché No è per dire In America costa 100 dollari all'anno In America Ma anche in Germania costa 80 In Germania costa 80 Più solo palagoni No però in Germania costa 80 E costa più del doppio 70 60 Comunque il doppio rispetto a noi Trovate il contenitore di Germania No no 80 E anche in Francia costa 60 Poi devi anche contare il fatto che lì 69 euro Non sono 69 euro da noi Trapportato a noi Ok Comunque Non c'entrava col prezzo E' assoluta una cosa del Il fatto che tu di prima non c'entrava col prezzo di Amazon In realtà è giustissimo anche per le consegne In tre giorni per dire Che se me le fanno Però spesso si vedono molti O che hanno il Prime e sono accanto a cosa tu qua Per dire O che magari hanno il Prime e ti dicono No no vabbè ci mettiamo tre giorni E Un conto se mi arrivano dall'Inghilterra Magari si può anche stare Ma se mi arrivano Da un posto vicino Ci mettiamo tre giorni Mi hanno fatto fastidio Avendo pagato comunque Amazon Prime Poi Vabbè lì è una cosa mia Io pagherò comunque Amazon Prime Pagherò comunque Amazon Prime No no Perché La Dogana non esiste Tra Germania e Italia In Europa non esiste la Dogana In Europa proprio Sarebbe un casino L'Europa è natale Se da Germania Italia ci vuole un mese di spedizione Potrebbero aumentare adesso i tempi Dall'Inghilterra Adesso che esce dall'Europa Dalla Germania Dall'Unghilterra Eh io non ho capito bene dove sono Ah l'ho capito ok Trovati Dove? Dove eravamo noi Ah si si ho capito è vero Si l'aveva scritto anche il sito Vado a fizzare l'altro fa Eh se si fosse già fatto Dove ho mantenuto i magazzini in Italia Non so come fizzare precisamente Da ma pocket Pocket jail Infatti non so se hai notato l'e-mail Care mi ha dato Amazon Ha scritto 36 euro all'anno E tra qualità ha dovuto scrivere 3 euro al mese Perché sennò la gente non capiva No quello è una cosa Vedeva 36 euro e si spaventava E' ucciso Aveva dovuto specificare 3 euro al mese Ho dovuto la porta perché sono lì dentro Sì è quello che non si capisce che sono 3 euro al mese Che cazzo troppo di chiacca Ah è sceso Aspetta faccio suonare eh Dai Faccio suonare Ma di nuovo Ma sono un coglione io Marco ammazzami E' un troppo di Gapkan di nuovo Che palle che c'eravate voi lì dietro E' un po' di una frega Andiamo a ricaricare Vedi Eh niente Ho cominciato di vita No ho ferito un po' infatti Ma torna Ho sbagliato Si è giocato bene qua dai Stiamo un attimo dormendo negli altri round Beh in realtà siamo 2-1 No però non ho fatto quanto benissimo L'ho aumentato ancora 50 all'anno sicuro Si no subito Magari tra un paio d'anni Tra i 3 anni 4 anni 2-3 anni si Etro il 2020 Sì ma anche questo aumento Lo si sapeva da un sacco di tempo Ma perché 20 euro era regalato 20 euro è ovvio 20 euro è veramente troppo poco Anzi si in realtà In realtà dicevano che aumentava Direttamente a 50 Eh teorasta Perché adesso non c'è ancora il blocco Tra un paio d'anni Quando l'Inghiltero uscirà ufficialmente Ma scappa ma fai schifo Deve un po' di 30 Al momento in cui aumentano 50 euro all'anno Ci sono molte più robe comunque Vero Perché se il servizio non migliora Il video non mette niente Allora ok Già uno si può lamentare Sì Secondo me è un ottimo prezzo comunque Sì perché io ero una promotora di lancio Non si può lamentare di Amazon Prime comunque Vero No no 20 euro in realtà Prima costava Costava 10 Costava 10 Ma io dico Io mi ricordo un costo mensile anche una volta Adesso l'hanno messo Una volta Io mi pare che I primi due anni manco M'ha scalato i soldi Anche mio fratello tre anni senza pagarlo Io mi ricordo che era mensile una volta Avevo tanto tempo fa Avevo tanto Il anime è il migliore probabilmente No ma c'è anche delle serie più interessanti È come dire Netflix Italia Quattro anni fa No quanto è uscito? Netflix Italia Tre anni Anche quando Cioè è appena uscito non aveva un cazzo di niente Non aveva C'è giù bucchè anche Ma per i video c'è da un po' in realtà Eh E da quanto? Eh dai Insieme a Netflix Eh sono sì in fondo Quello vedo io Posizionamento tappeto Sono lì Esprit Sì Ho preso io Non c'ho fatto niente Ho preso In testa Dio cielo Ehi Non è morto c'è un altro Tiè Alla porta principale È solo in fondo Ah lei mi ha sciuttato Ah vaffanculo Eh c'è grazie su in fondo eh Mi basta andare dalla finestra Pinocchius 5 mesi Grazie mille No Dicevo che comunque ci ha messo C'è internet Non aveva niente Non avevo più trappole che vuoi Eh sono la comunque Sono lì Lì Dietro C'è grazie dietro eh Ho un bucato C'è grazie da Mark a poche parte E' spavento Ti sto sottando A destra Mark Ho fatto il buco del muro a destra Ho preso una sfina Ho fatto il buco a sinistra del muro In fondo Adesso mi muovo Sottando Attento Moro A non far troppo casino Che passano dove sei Cacchio Il nemico Ho sottato io Così ho passaggio per Tanti Sono dentro? Ah sono dentro sì Mosti era lì l'ho visto Eh ma te l'ho detto Ma che era in fondo lì a sinistra Eh lo so Assista Sinistra Lo so Lo so Sono entrato solo per bloccare il Attento Moro eh E' a sinistra Moro Ok sono scoperto Ci sono scoperto Vedete Dalla porta sempre Dalla porta Vai giù Vai giù Ok Ok Da dove? E' dal sinistra A sinistra? Ah no Da dietro Madonna che c***o E' a sinistra giusto Vai vedi A sinistra giusto E' ucciso dal corridoio Dalla porta del bar M'ha ucciso Ah da lì Ok Ha veramente preso in testissima E' morto all'istante Guarda che schifo di caffè Ah Marco ultimo che schifo Che schifo Che schifo Oroti dice che c'è comunque Eeeh Sì Sciamolo Diciamo che lo sposto qui Matteo Questo è Oroti Matteo Posta l'altro Matteo Questo è Oroti Matteo Questo è Oroti Matteo Porta fuori la squadra Esbri Un pacchettino Un attimo Ciao Ciao Dai non me l'ha dato Il pacchettino Siamo se me lo da A me mi da sta controllo Niente Porta fuori la squadra Esbri Aspetta è vero Un attimo che vi sento Quattro volte che ho la live aperta Ok L'ho fatto Non lo fare Si è arrivato tanto dopo Netflix Prime Video Un pacchettino No forse c'era direttamente già da prima Però no No da prima Non so se neanche un anno dopo Ti ha poca roba Più che altro ha anche Più che altro ha anche Più che altro ha anche risperto coliandro Ma così Ha anche roba che ha solo in inglese Per ora Ma non mi ha fatto più il pacchetto Ma aveva aperto di vienza Neanche il settore Si sta lo strappo Ma tra i video in Italia è dicembre 2016 Quindi un anno Ma scusa Un malazzo Un annetto poco più Ottobre 2015 Netflix Tra i video dicembre 2016 E' un anno Un anno Un anno e qualche mese Che bello Lo metto Che bello quello metto Quello è quello del culetto Ottobre 2015 Ehm Non so Non me l'ha aperto Non ho fatto lo strappo Mi dà fastidio adesso Me l'ha Mi ha detto solo L'ultima puntata Questa Rainbow Six Tolte i mirini Le modifiche le armi E' praticamente come Sea of Team Non è vero perchè compri gli operatori Con i punti compri le skin Compri gli operatori Ma poi il gioco è diverso E' un po' diverso E' un paragone La tipologia di gioco è un po' diverso Un pochino si Mi sto che è un gioco competitivo Allora anche Fortnite è inutile Fortnite è inutile Call of Duty è inutile E' diverso In un gioco di pirati Tu fai un sacco di soldi Ti presume per fare altre cose Non è un gioco competitivo Il gioco di pirati è Questo è competitivo Si utilizza esplorazione poi Si utilizza esplorazione L'esplorazione lì ci sono solo Se questo non è esplorazione Questa è una partita Cioè Enti fai una partita e esci Enti fai una partita e esci Enti fai una partita e esci Non è che sei Tre anni, un'ora Per fare una missione Di forziti che ti hanno duecento di soldi Come se in Skyrim andassi un giro E prendessi gli stessi vestiti che Sono forti come quelli iniziali Cioè no Ah e Non ha senso Beh quello Ma il denaro del gioco su Rainbow E' comunque diverso Perché su Rainbow Six Non ebbe senso mettere un potenziamento per il personaggio Non ebbe alcun senso proprio Esatto perché vai a squilibrare E' un gioco competitivo E' un gioco competitivo No è un gioco competitivo Non puoi Sì Voglio comprarmi armi nuove Io su Sea of Tears Armi potenti Voglio far vedere che sono un giocatore Che ho giocato 300 ore E non uguale a 1.01 E' come su World of Warcraft Più giochi Più hai oggetti belli Infatti basta mettere Non statistiche Mettevi un livello del personaggio E con l'aumento del livello del personaggio Mi davi dei premi Tipo non so A livello 20 Ho un'arma Una pistola Che fa 1 in più di danno O a 6 colpi Invece del caricatore Invece che 5 Quelle robe la Cioè sono robe davvero Ma magari Anche se non erano potenziamenti Tipo robe Una skin Cioè no Una skin Ci sono già le skin Eh gratis però la davano In quel senso Cazzo me ne fregava comunque E beh Cosa vuoi dire a te Dicevo magari Mettere delle cose utili Tipo cosa ne so E vai avanti Poi ti puoi comprare qualcosa Che ti serve Per trovare determinati tesori Che altrimenti con quello Non potevi trovare Tipo Oppure delle aggiunte alla nave No veramente L'animazione Ti fanno Ostia La Una barchetta E quanto non lo fanno? No se mettono anche il costo Da pagare se muori E' una merda Si quello ho detto La nave Che cosa? Eh ma quanto Effettivamente quante volte muori per bene Io ho capito Marco Ma già si guadagna un cacchio Se poi perdi pure soldi quando muori Ma secondo me devono mettere Cioè devono concentrarsi su altro Poi hanno detto che No sei più carino La cosa che hanno detto loro è Sei molto carino Ehm Sea of Thieves è nato come un gioco Che va a evolversi nel tempo Quindi tecnicamente Più andiamo avanti Infatti Il problema è quello Ma infatti Il gioco di partenza Uno l'ha già finito tutto Adesso Cioè adesso io sto salendo di livello Veramente tanto poco Su Na voglia Che pale hanno emozione Una brutta cosa Secondo me è una brutta cosa Ciao Sony Eh si Ma perchè aggiungere quella Perchè aggiungere quella Perchè aggiungere quella Beh in realtà In realtà no Allora ci sta Ma se fosse equilibrato Sul fatto che guadagni Sì cosa dobbiamo dire Spingire persone A non dischiare Spingire persone A non fare i raid Così Eh ho capito Che è l'unico modo in cui guadagnare Allora vuol dire che No 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 Non ride Spingire persone A non fare troppe cazzate Si ma vuol dire Sono tutti scoperati Vuol dire rallentare il gioco Eh arrivo Eh si Vedere questi qua Sì Passerò due mori eh Io spero veramente Che aumentino il guadagno Sia di esperienza Sia dei soldi in generale Sennò veramente Rallentano Troppo E' un gioco Pay to win Senza possibilità di pagare questo Esatto Ehi Ehi I raid sono pallosi Ma attualmente è l'unico modo Per salire in fretta Con tutte le esperienze Non è vero Non sali in fretta Con i raid No però sali almeno in contemporanea Con tutte Beh porca manca Eh è per quello No Moro Espi solo le prime volte Poi dopo Solo i primi livelli Poi non sali più Poi con la fretta Oh ti sei in cretina Perché hai corso? Gacchio sono più di piano Tanto ero dentro Tanto sono all'inizio Eh capito perché facci L'espre sono lì fuori Eh vabbè tanto sanno che c'è gente nell'obiettivo Sono tutti qua Sono tutti qua Sì G2 Era solo per allontanarli La posizione è stata compromessa Eh va bene Eh no da di fianco T'hanno sparato da destra Da per tu Eh no lo so È che erano da per tutto Lo so lo so Dove? Sono roti con laser Mortacci sua Ah ero roti è chiaro Ho deciso unghie Io ho aperto la finestra Ce ne erano tre Mi sono cagato Buona Ultimo attaccante rimasto in vita Mezz'ora guardavo là Mi giro due secondi e arriva uno Cazzo Nooo Dove? È a sinistra amore È arrivato a sinistra Che cazzo Da dove stai andando? Ok Cazzo Cosa night aspetta C'è una nuova torrette in arrivo per colpa Ah dicono Ma non è ancora non si sa bene ragazzi Per Ciaciacca? No Credo il nuovo operato a coso Maestro intendi Uuuu Ma non è detto Basta il mio Italiano con la torretta a posto C'è non è niente di certo Io non so È una torretta automatica probabilmente Spero guarda È mica automatica ma è forte C'è No ma sarebbe OP Eh infatti sarebbe veramente OP Vabbè che poi dipende Magari fa BB Magari No ma più che altro puoi sparare Basta una bomba di toucher per disattivata Si no può essere disattivata Però se la piazzi bene potrebbe rompere le balle effettivamente Eh ma Ayrton Vabbè basta non metterla Chi inizia a sparare subito No si farà il tempo ci vorrà 2-3 secondi Eh ma Ayrton Lo faccio in tempo a correre da tutta l'altra parte Basta un secondo Sì Ma Ayrton Mi fa BB Si sponda inizia a sparare ed è non è più OP Si Ma infatti il fatto che sia una torretta automatica non deve incutire timore Magari va a caccare No infatti Mi pericolo proprio che non sentite perchè Si ecco tipo quella GD Division che ci mette un attimo a sparare Si Poi magari non ha neanche tutto sto dato Eh vado giù Vado su Eh giù Puoi andare e spriderli Sennò infatti probabilmente sarà come quella di GD Division Intanto possono anche copiarla Sono sotto sotto È loro sempre Eh mi sa che sono sotto sotto Sono sotto si Eh inizio e basta ho beccato un po' ma ha distrutto Ah sono in cucina Barbo land 2-6 Barbo land 5 secondi Teorotico saluta Treg Fuoco di soffrazione Ah che cacchio Che cacchio Chiama abilità barge Fa fuoco di soffressione Beh giustamente Mi saluta Greg eh È Lethal League Gratis Dove? È Lethal League Gratis? Dove? Su Steam? Cosa? Lethal League Gratis No perchè non ce l'ha Ah be Siamo saliti tutti che sono sotto C'è Formula 1 2015 su l'umble bundle gratis A meno ieri c'è Poi magari finito Buongiorno buongiorno Stasera mino pure eh Per chi... che spavento Per chi possa vederlo mino pure stasera Esattamente Ricarico Non vedo l'ora porca vacca Ho provato ad avviarlo un paio di volte anche adesso per vedere se l'erroge Eh no aprile una set Vabbè ma lo... lo ho giocato per la prima volta in line Per dimme Però non ci sia troppo di introduzione che magari.. No.. eh puu' essere eh.. un pochino si ma non lo sardo Perché io non schifo se ne cazzi non vorrei schifarle ragazzi Va beh, mi ha dato il Day One quindi ci sono Che male al piede.. Cos'è successo? Eh spirit.. eliezer tu non sei con me? No sono andato sopra l'obiettivo perchè il giugno Ok ho ucciso Ella che mi stava inseguendo Chiugno sotto, occhio Uno è qui, nell'angolino a destra Va bene, cos'è successo? Espre sono qui eh No l'espina, ho 5 di vita Marco Ecco la pesa Non ho vinto niente, hanno capito È dentro lì Marco Niente devo fare il giro io per forza No è uscito Marco, uccidetelo Eh ma dai però con te cazzo io mi stai lasciando L'ultimo è dietro al bancone Sontai da qua Buona Sono entrato Non ho capito niente, troppo rotto Troppo rotto, troppo rotto per terra In chiave che c***a veramente tanto quello di Filt Forza vacca, ingestivi Dovremmo usare di più IQ comunque Perchè se tra poi sono l'auto di colline Allora Ma nel sbanto di IQ Non d'accia, piuttosto Avete visto il nuovo gioco di Magic? L'ho visto giocare un po' ieri in live Da qualcuno C'è ne uscito un nuovo gioco di carte di Magic Che sembra molto figo Sembra fatto veramente bene Io non lo conosco Io non l'ho BeFrancyFly Grazie Sì Sì Ma Tyve Ma Tyve è rotto il burro o lo batto? Ha rotto il burro? Ho voluto io la mia fastidio adesso Poi sentiamo alla prossima inizieranno a way out tutti due qua Sì due barbolini qua Un robottino! E poi inizierà anche a far cry Un robottino dov'è? Un robottino Un robottino Un robottino Un robottino Un robottino Mi sei passato davanti in quel momento Eh però mi hai fatto male Eh sì Te l'ho tirato nella coscia quantissimi Tu stai rompendo proprio Non è possibile che tu in modo testi di merda proprio Ma mangiammi le palle e sprint bastardo Nooo tu sei risposto a questa domanda E allora non lo fare Marco Che schifo sei in testa La devi cambiare con la skin La devi cambiare con la skin di merda L'ho messa perchè sono particolare Rispetto agli altri così Eh mi sembra giusto e corretto e giusto Eh bisogna vedere gli ologrammi C'era un terzo Rotti comunque Rotti? Rotti t'apposto Qua dentro eh Marco Marco qua Eh sì Grazie Kira, 18 mesi C'è stato un altro Ah no più usato Che cosa fa la way out è quella gioccoli Sì Parano da l'ultimo Tento eh spirit non posso aiutarti perchè ho paura di ucciderti così Ah ma è andata a parte Arno Marco è andata a parte oi vedete No no dall'altra parte mi sparavano non potevo uscire E cazzo eeeh Non sapevo però io Era dappertutto Ha rotto tutto e si è accorto Vabbè Da dove ho rotto? È in blitz davanti alle scalette interne Allora vado No 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 non c'è di vedere lì Perchè sta puntato direttamente a me per l'altro Sì 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 Sono su con tutti quanti su sono? Marco dal sinistra È blitz Non andare Marco Se è distratto però potrei Trailo un po' Marco Guardate una mano a Marco però Non sono da parte posta A dire a sinistra A sinistra A sinistra lo vedi? C'è di blitz era Eh non è blitz però Dopo dalla terra C'è anche un altro c'è Non so se lo blitz E c'è anche blitz Bebba Eeeh 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 Dai che pugno mi ha dato L'ultimo nemico Senti che blitz Assisti esisti La finestra eh Ho tirato dalla schiena all'iniza Ho capito Sono tutti davanti Dieter dietro attento Eeeh 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 blitz sta morendo con le gu Andate tutti e due da blitz in caso No vabbè anzi non è una bella idea Fagli prendere Fagli prendere le trampole Ma come sei girato Eeeh Vai via Vabbè sei girato troppo veloce dai Ma quel cazzo è scomparso Ha uno sputo di vita c'ha No blitz è... Ma blitz è rotto E' vergognoso blitz Lasciagli le spine No ma infatti fagli prendere le trappole È l'obiettivo Oh Scusa è riuscito fuori? Si Vabbè stai fermo Non serve Moro spine Eh non ce l'ho più Vabbè vabbè dai blitz Allora vai a fare il culo No scemo di merda Scemo di merda Scemo di merda Coglione Coglione Che palle qui mi ha un fastidio mi dà No è veramente assurdo che hai riuscito a ucciderne due o tre E' proprio impressionante quanto fa schifo Ma puoi sparare a caso con se lo scudo avanti e becca in testa E cosa è che funziona male con me Non ci vuoi fare Guarda che bello Ma la skin da nonna di Frost Sono proprio bella Sono bellissimo Sono veramente bellissimo Per 40 punti poi Vaffanculo E' stata proprio una scena da benissimo Eh il primo round ho aperto la finestra Ho sparato tutti e tre che me li sono ritrovati davanti Ho fatto 18 assist Mi avevo molto fastidio in questa skin comunque E vabbè dai una skin particolare Sono unico Sono unico Dovevo tirarli Continua a girare come squadra devo fare no? Eppi Dai ma il pacchetto neanche con il 97%? Eh sì Eh sì Eh sì Marco 38% Eh sì Marco E' bravo Captain Jade del cazzo sei Bene dai E' unico E' unico E' unico E' unico E' unico Cos'è Kingdom Hearts? Non mi sta venendo in mente Come cosa Kingdom Hearts? Come cosa Kingdom Hearts? Sono stupido Error Chi è cogliono? Ho letto Ma no e ho letto malissimo Scusatemi Scusatemi Non avevo capito Kingdom Hearts Ho letto Infatti ho letto Kingdom Hearts Perché Stavo pensando a tutta Stavo pensando a un gioco di strategia infatti Non so perché Sei scemo? Ti si era spento il cervello che già non è molto attivo questa mattina Comunque no E beh se esce mi piacere Sembrava 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 interessante Poi c'è Toy Story Però non si sa niente E non credo si saprà niente Neanche alle 3 di quest'anno Ma si deve uscire quest'anno Si spera di si però Deve uscire prima delle 3 no? No han detto che esce quest'anno ma Deve uscirà in autunno sicuramente No non ha dato la data Non mi pare No no la data no Ehm Ok Ma chi è però che continuano per i coglioni? Chi è uscita Kingdom Hearts 3 Ho la connessione stronza Ho capito ma si sterma Ehm Ehm 2018 Bisogna rifare la squadra 2018 No no bisogna rifare la squadra Ah vai 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 E poi trattata ripartiamo adesso Guarda te Comparte una connessione ad Oroti E anche a Morelli Facciamo così Mauro Facciamo un donation goal No? Di 50.000 euro Ah no la data d'uscita Verrà annunciata alle 3 Ehm ascolta su stonza di merda Ehm no esprit Ti devo dare i soldi Niente Sbatto i coglioni dei tuoi soldi Come? Va bene? Io sono una persona onesta Ne vedo Come non è vero? Non faccio le lemosina Non faccio le lemosina chiedendo i soldi In donazioni in stream No mi sentivo deficiente Però se mi date 50 euro grazie Esatto che sono povero Eh purtroppo Se potete donare di più Dai solo per i primi che donano 50 euro il regalo me ne date altri 100 va bene? Ah Ma se si compa Netflix e metterlo su Netflix loro va bene Te Eh no Invece se ne fa uno loro E non da po' il dio Va bene Kamen Però dopo me ne dai altri 50 Facciamo così? Valle Non ho avuto modo di vedermi il trailer anche oggi Lo vedrò dopo E quindi no? Eh si E qui nozio Cos'era? Ha abbandonato Vedi vedi Valle sono proprio un Dovete localizzare C'è anche un VKS Civil War Non lo penso Ce l'ho io So tutto Non pensi un VKS Però Marco Allora Ant-Man e Star Wars Ah Thor 2 anche Eh si Ti conviene guardarli entro Pasqua Marco ma Dio Sono sicura E sicuramente Tutti quelli che ci sono adesso Tutti gli Iron Man Tutti Cioè Quelli della Galassia Avengers Così vengono tolti Dai Gli hanno spaccato Oh Corri Marco Ai 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 Tanto l'abbiamo trovato tutti Non manca uno Ehi K Anche io voglio guardare Logan Dov'è? Ehi dai Non c'è sui Ehi dai Non c'è sui Non c'è nei cosi Beh in realtà il blu ray si trova veramente poco Ma poi vabbè io sono fan degli X-Men Mi fanno due Mi fanno due Mi fanno due Mi fanno due Adesso A me è il contrario Se non fosse per Wolverine Non li guarderei mai gli X-Men Non mi interessa In cucina Ma c'è Wolverine Wolverine è uno dei miei preferiti in generale proprio Invece di supereroico Un barrazzo Gas Lo ho ferito uno Il gas Dai l'ho ferito ma non muore Ha sparato all'ostaggio No è il smoke È il smoke È impedisce l'animazione Dovevo impedirla Eh non ce la facciamo Eh non si può Perché è di sotto Dai mi ha ucciso Ma porca vacca Mezz'ora a sparargli Ma chiudi Eh si Ma si schermo No È stato bravo C'era uno in giro Ero ucciso Nelle stanze a destra Tenti il caveira Tenti il caveira Tenti il caveira Ma io non lo vedi Hai la caveira fuori Eh niente Ci sono caveira Rimani affrosso Che non so dov'è È lì è lì L'ho già rotta la terra È lì nel corridoio L'ho visto Ok L'ho visto l'ho visto Ah che paura Mi stavi passando davanti Eh non te l'ho vista Vabbè che ci vuoi fare Eeeh Guarda che si gira tutto cagato Poi alla fine È spesso Peppa Pig L'ho visto al cinema E guarda Cioè sarei volentieri Andato a rivederlo Due o tre volte Logan è proprio un filmone Porca vacca Che bello Ho sperato In quei momenti Che appare Che facesse apparizione Anche nel Marvel Cinematics Ma ormai Cosa potrei scegliere oggi? Dai Se riappare Riappare che un altro attore Da zero completamente È che mi dispiace un sacco Perché poca vacca Ormai Ormai Wolverine E Hugh Jackman Porca pia È vero anche quello Cioè Ormai anche Anche con Infinite War Si chiuderà No no in realtà C'è ancora Avengers 4 Dopo Infinity War Ma comunque tutti i vecchi Secondo me andranno via Scusa non si chiude quel cerchio Di No Infinity War Si conclude la battaglia dell'infinito Poi c'è Mi pare che non è detto Ma era in Avengers 4 Boh c'è ancora un altro Eh no dopo Non riprende con altri attori e tutto Cioè non c'è Io non c'è In Avengers 4 Probabile c'è ancora qualcuno Cioè allora Quelli che hanno il contratto in scadenza Sono Chris Evans E Robert Downey Gli altri tecnicamente potrebbero Apparire anche in altre forme Metti Metti che muoiono in infinito Diventano degli scorreggioni Diventano Che per dirvi Iron Man Cioè c'è un'intera testata Di iron man In cui lui E' solo un'intelligenza artificiale E' Tony Eeeh Fai conto che stanno anche dicendo che Dopo questo I fantastici quattro Rinasco in altro modo Aiaia ma è qui Dov'è qui? Ma è dentro E' la ciulata Oroti ma è ciulata Sei un maiale Non ho guardato da quella parte apposta Ma quello lì ha lasciato E mi hanno pure ucciso Schiposo Allora E che sfiga oroti Spara l'ostaggio Era John Cena E coglione guarda bene Poi comunque Hugh Jackman è riuscito a farmi piacere un musical Io ricordo L'unico in vita mia Che non mi abbia fatto volentare dalle orehe Ma si ma si Eh si eh si Non so le mani Adesso Esprit stai attento per favore Arrivano cazzo Esprit Porca puttana C'è le mie trappole Caesar fai il giro dall'altra parte Eh ma non Fai il giro di là Ma usa l'abilità Adesso sanno che sei qui Sì ma me ne vado C'è montagne Lascia le fai lo strunzo Una terra Comunque probabilmente li riparò Sì io l'ho già detto Merda La mia previsione è che riparare Non mette la patosina io e la città Non la calda Affanculo Guarda quanta vita c'ho Tutta la vita Vabbè Io non posso più giocare Rainbow Six con Blitz Non posso più giocare Rainbow Six No no infatti No dico L'hanno potenzato perché non lo prendeva più nessuno Ma nella prossima patch Ti pare che Perché non mi potenzano Tachanka Gli bombardano Gli bombardano gli uffici Perché il ma schifo è cagare Tachanka di principio Comunque io l'ho detto Rifaranno tutti gli X-Men Tutti gli X-Men rifaranno secondo me Anche perché hanno detto che hanno pronti 25 film No Ideologicamente Secondo me sono gli X-Men Siamo gli X-Men Un me Un anno Grazie Grazie SirFego Senza considerare che Spider-Man Dalle nuove leve che diventerà il nuovo Tony Praticamente Ti ha potenziato Tachanka? Non credo possa diventare il nuovo Tony Eh lo è Allora Giorgia Tachanka è forte Nuovo Tony comunque Nel senso che sarà il leader Diciamo Ah ok No a parte che sì Comunque No non è vero L'attestata che c'è adesso di Spider-Man Lui è Tony Stark Praticamente C'ha le Parker Industrie Ed è Milionario Intelligentissimo Che ha fatto un sacco di scoperte C'è Guarda Tachanka C'è noto Tachanka Guarda L'inserimento tra gli uomini 5 secondi all'inserimento Beh Occhio anche c'è Tachank Poi magari adesso nel film Semplicemente avrà un ruolo da leader Ma non ci sarà quello che c'è Nel film Quanto puoi sparare In realtà vogliono potenziarlo ancora di più Ma chi i blitz Ma veramente Dove l'ho reso più veloce i blitz Poi l'hanno resistito Ah era già così Era già ancora più veloce Ma quello riesce a sfondare i garage No Ma Cavaliere E sopra Occhio è sopra il cavaliere Amore Ok C'è Tachanka davanti a me Aia Cosa Fanculo C'era Elan che Dove ho io Ma è sopra Però non c'è bisogno di mangiarti Taff Era alla mia sinistra Ma sopra era Ovviamente No 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 Dove cazzi Ha ucciso Un gulo Ha ucciso Caveira E' giù La roba A destra Ah merda Vedi Il laser che schifo Il laser sto coglione Scrive Perché quello lì Non lo sa usare il laser Ma Occhio Marco Eh che cazzo Un coglione io oggi però Perché devo ammazzarmi E' Marco E' Marco Cazzo Ha salvato la campanella Dai l'ho colpito ma non è morto L'ostaggio l'ostaggio Buona Morta Dietro Dietro Dove cazzo è No 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 Scrivi dietro E' bravo E' bravissimo L'ultimo Ah l'ultima era ella Che era fuori dall'obiettivo E' no Sicuro Secondo me E' dentro Merda ma andai fuori Perché mi dici fuori Se vuoi fuori Hai capito Mi confondi Però E' la tante ha detto Fermati abbastanza in tempo Comunque Quando ero davanti a lei A parte che l'avevo vista anch'io che era dentro E perchè l'ho mai detto Quando l'ha detto Roti L'ha detto lui No è lui detto che era fuori No no l'ho vista dietro t'accianca quando stavi per entrare in stanza ormai E' ma ormai è davanti a lei Che cacca l'avevo vista Hai capito Non è che è colpa di Roti Te l'ha detto No ma è detto Era fuori Era fuori Era fuori Mi confondi Era fuori Sei italiano Era fuori Ma mi dà fastidio Entra sapendo che potrebbe essere dentro La fastidio Basta Ho capito Dico sempre No no Perché facendo sempre così Mi dice Era a sinistra E poi Sì però mi confondi E allora entra sapendo di stare attento Capito ma non devi comunque lasciare Beh dai Cosa vuol dire correre dentro E la fase finale siete uno contro uno Fortificate la tazza Ella fuori Potevi non morire Marco Ella fuori Ti ha detto Ella Fuori Dove vuol dire potevi non morire Poi deficiente Hai fatto un errore Tu te la prendi con me che sono morto prima Anche ho ucciso una persona Sì perché io ho fatto 3 kg ho fatto io E io ci gioco a Leira E vi ho salvato un sacco di volte con la siringa Cosa vuoi Io sono morto comunque Marco Sei morto perché eri davanti a me Non potevo farci niente No perché sempre Mi confondono sempre i consigli E così a caso Perché era Era appunto Devi dire quello Capito ma ti ho dato un consiglio ottimo Ma non era un consiglio generale poi Ma ti è ottimo il cazzo Perché era fuori Era ottimo Era ottimo Ah tu come usi il consiglio Era fuori Come lo usi? Era fuori dentro calmo Perché potrebbe essere dentro Eh potrebbe essere ovunque Era fuori Ma certo che potrebbe essere ovunque Esatto Per quello non devi correre E qui non stava niente dire era fuori Ma Espri sei stupido per caso Eh no ma anche se che consiglio Tu hai detto che è ottimo consiglio Dire che era fuori Quando potrebbe essere ovunque Non è un buon consiglio È un buon consiglio a caso È come dire Eh sì secondo me Era fuori che c'è un getto Eh sì Ma dai è qua Questo non stanno lasciando Era una recluta Eh ma non era un consiglio Cioè sì Sì e no Eh ma non ti ho colpito Tra l'altro Dove sono qui? Ti ho sparato in testa Non ti ho fatto niente Ma meno male È lì davanti L'ufficio Che male Jezar Che poi cazzo Io ho mangiato Glitz Sì Scusa il controllo del mio alineo Non ho visto io Ce ne sono due Esprit attento Vabbè Vabbè E anche il laser Quindi scupe Attento Vabbè I morti Ce ne sono tre Mi sa addirittura Guardate 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 È morto È terra È terra Non è questo Che è fuori dalla finestra Attento Vabbè Avevi due HP Esprit Non potevi far niente Per blitz Comunque No blitz è morto Blitz è morto Rimano i Q E Zofia A destra Entrata d'enter Eh no infatti Non è che è colpo di Oroti Però non bisogna dire niente Se non è sicuro Che sei che è là Infatti non è un consiglio Ma non ti hai detto È lì Non era un consiglio Ok ma confonde comunque Perché tu dici Era fuori Ok È inutile comunque Tu dici Era fuori Ma è un'indicazione Non è un consiglio Eh ma è un'indicazione Tu non sai dov'è Quindi non è un'indicazione Marco Lui ti ha detto Quello che ha visto lui Lui ti ha detto Quello che ha visto Era fuori È come dire Ora di dirmi Era fuori Prima era fuori È come dire È vivo È uguale Perché non mi dai Nessuna indicazione Mi ci sono che È a qualche parte Nella mappa Quindi non è un'indicazione Allora a prescindere Comunque non dovevi correre dentro No quello ok Quello ho sbagliato Semplicemente lui ti ha detto Un'indicazione Non puoi dirmi Che era fuori È un buon consiglio Però non puoi dirmelo Ma non è un consiglio È un'indicazione Tu mi hai detto Prima che un buon consiglio Era fuori Ma hai detto Eh no No allora È un modo per farvi stare attento Se tu mi dici È fuori Perché sei sicuro È un consiglio buono Se tu era fuori Non è un consiglio buono Per dirti Stai attento Che potrebbe essere lì Poi magari non è lì Però è l'ultima cosa Che ha visto No è per dirti Entra dentro con cautela Però stai attento anche Eh ma allora Non è una cosa sbagliata No No non è sbagliata Solo che non è un consiglio È come dire È vivo Ma sì È bene È come dire È vivo È ok Eh sì Lo so E quello appunto Non è vero Non è vero Perché tu mi dici Tu non sei l'indicazione Perché magari tu eri sicuro Fosse dentro No io non sapevo dov'era Ho capito Lui te l'ha venuto E lei mi ha detto Che era fuori Quindi non Vabbè ma lui te l'ha detto L'ultima cosa Che ha visto Poi naturalmente Scusa È tagliato anche quello Era fuori Non serve a niente Dirmelo Tecnicamente Vuol dire che ti confonde Ma lo devi spiegare Ha maggior ragione Che tu lo credi inutile È vero Perché magari Magari poi Era dietro di te Tu guardavi dentro E te la prendevi Perché ma nessuno Mi ha detto che era dietro E ho capito E quello non potevi sapere O te l'hai posta dietro di me Eh sì Perché magari Sono rotto Come dire Era fuori Non serve a vedere Semplicemente Cioè Sono rotto Soprò che prima Era donna Il mio discorso È molto semplice Il mio discorso Se non sai Dove Noi avevamo botte Sangue Violenta Lea Lecom Anche Royce Sì Poi io Mi ci vedo Che è deficiente Però Sessione Tutto Mi arrivo Ora Ma lì Mi renda Il mio Mi ha fatto io Però Mi ha fastidio Comunque Blitz è morto Poi Con un po' di Oroti Che Sono in tre Da lì Proviamo a cambiare Direzione Lì c'è la botta Ma è una cosa che È una cosa che a me Da fastidio Se mi ci punti Lo semplice E' una cosa Di strana Eh ma Eh vabbè C'è la recluta Che ruscia Dov'è Era lì Qua Ah sì Che ruscia Ok Almeno un altro Dal garage Buona Buona Mauro Che rinculo Non ha Sto fuzile Ma anche quello Di Lymark Un cazzo Si chiama il personaggio Rook Adesso ci arriva i spy Siamo sentrambi Vedrai Eibana Per sinistra No Di là c'è la notte Con le mie trappole Tecnicamente Ah bravo Estrink Bravo Non so S'implicemente Nerd E' già diverso Vedi E' già diverso Perché era lì L'hai appena visto E sai che Dovebbe essere lì Era fuori Un cazzo Non ti ho indicato Un cazzo Beh Dici che è lì Tecnicamente Va bene E' lì Tecnicamente Non è un indizio Allora Secondo il tuo ragionamento Era fuori Perché era fuori Metà mappa Era fuori Metà mappa Deficiente Direttamente Fuori dalla porta Sud Va bene E' no Perché Era vera Va bene Ma capito Ma almeno Sai dove Chi era prima Dove potrebbe arrivare E' sempre Un indizio Eh sì Semplici Il punto giusto Sì Va bene Ma se era giusto Infatti Era lì in quella Direzione Era pazzato Togli la Esprit Non era giusto Te l'ho detto A cazzo Io ero morto Stavo guardando Un'altra roba Grazie Un cattino Eh no E sono due cose diverse Dimmi Era in una zona E era Metà mappa Che girava Secondo me Poi boh Ehm Come facciamo Realistica Esprit Sì Che cacchio di domande Fai Eh scusa Ma siamo scarsi Oggi Ma vaffanculo Abbiamo vinto tutto Io non trovo ancora il pacchettino Lo trovo ingiusta Questa cosa Io non so Cosa dire Marco Facciamo un Un gioco Dai Rainbow Six Dai giochiamo Facciamo un'altra ora No Ah che gomito Che ho dato Io lo farei Ma perché fai batchmaking Poi che siamo in squadra Ma perché Ecco perché lo fa Ecco perché lo fa Oroti Sisteva la connessione Va bene Hai capito? Devo fare un rutto Però non lo farò Dai Marco Per favore Ma che cazzo era questo Scusa La comprimizio La comprimazio Come si dice La compressione Ecco Mi veniva Ah Scusa rida Non è sufficiente Niente Niente Ma Lion funziona Qua dentro Sì Ma sì Funziona da bestia E poi stanno fermi Ma non è vero No Li leva tutti E io Ti cerco un lago Allora Adesso vinciamo Dovete trovare lo lago Zombie Tra virgolette Non è mai più fatta No Perché non mi va Perché se no Giocavo le 4 dead E non mi va di giocarci Quindi non Aia Eh ti ho sparato Eh 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 Ah Sei passato davanti Marco Sono tutti qua Sono andato L'esplosione Dovrei togliarmi Dovrei togliarmi Bravo caricatore Attivazione Dispositivi Attivo L'inverno Abbiamo tolto Tutta la vita E' fortuna che mi son potenziato Anzi Se non mi potenziavo Non ci devo prendere Marco i cattivi E' qua uno E' qua uno Cambio caricatore Posto Marco Andiamo Alla Caritas Alla Caritas Attivo Marco Aspetta E' qua uno Perché ti fai Sufuse Leather Tutti sotto Marco Oh quante particolarità Quante particolarità Marco sei un cretino E' pieno DC4 Però Le ho viste Me li sposti Ah la sento Ma come No Ma Ma davanti io Marco più vita Io invece rompo Niente Perché mi è tipo Non ha 134 Lì Marco Dov'è? No Giù La sento Ma non c'è E' lì a destra Nel muro Con un moviletto Che cazzo Moviletto Con la luce rossa Oh Com'è? Com'è? Marco E' non lì Piano Reeves Ti 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 Che cazzo Che cazzo Ti è il cretino Marco Non ti devi muovere Ti sei mosso Hai fatto tutta la porta E' capito Dove andare avanti E' no Sei buono Mi scusi Permesso Com'è? Avanti il fesso Tutto Chi è? Ci è il quattro Dov'è? Aia Marco? Morto Eh il ci è fatto Era lì sul tavolo Non l'ho vista Era in quella stanza Anche me È in quella stanza Grazie Marco Adesso è qua È lì Adesso prendi l'ossaggio E vattene dai Mi credo a stare Però prima E non di qua Ten'è un altro Attento Perché è un di qua Di qua Esco dalla finestra Eh va bene Di là c'era la porta Eh ma di là c'è più Sono più corto A me di stare morto Credo fosse vivo Ah di qua Dici E proviamo dai Devi stare attento Che ti compaiono Comunque i bot adesso Eh sì Adesso tu ci hai messo E ne vogliavo Come è? È dietro È il punto di estrazione Non ho capito perché hai perso la piazza Scusa hai perso la piazza Scusa hai perso la piazza C'è Scusa No Morelli Mi ha detto Esciti qua Io ho scritto Morelli Ma Morelli Lasciamo prendere che vecchio Come è? Eheh Tanta gente C'era un sacco di gente C'era un plotone esecutivo Vabbè Fammi vedere Come si chiudono di chi è sconso E cosa sto guardando? Guarda quanti erano? Porcavazzi Ah sì Vabbè Noi vi diamo la buonanotte e a domani Buonanotte scusa Buonanotte e buonanotte Io vado a dormire E vai dormire però ci vediamo comunque stasera con Nino Kuni Nino Kuli Nino Kuli Nino Kuli Nino Kuli Io non chiudo l'iPhone adesso, non c'ho buono Continuiamo a parlare? Come sta? Com'è? 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 Questa live è nata un po' male dai, secondo me Efficente?